Noi chiediamo all'azienda di non far finta che i problemi non esistano. I problemi ci sono, ce lo dice il personale, abbiamo problemi di dotazione organica. Problemi di dotazione organica vuol dire che ci mancano infermieri, ci mancano operatori sociosanitari e ne mancano tanti. Voi dite, quanti? Noi li abbiamo quantificati con alcuni dati che l'azienda ci aveva presentato a marzo, erano all'incirca 230. E' questo il grido d'allarme lanciato da NURSID, il sindacato autonomo degli infermieri. L'appello è ovviamente rivolto all'Asla Toscana Sud-Esta. L'azienda non sostituisce le lunghe malattie, anzi comincia a conteggiarle dal 90 giorni in poi. Ce le conteggia ma in realtà non le sostituisce. Non sostituisce le maternità, non sostituisce i colleghi che usufruiscono di benefici di legge come la 104, giustamente. Però 252 operatori ad Arezzo che usufruiscono della legge 104, moltiplicato 3 giorni, che sono di fatto il monteore di questi permessi, è chiaro che queste assenze vengono compensate da chi lavora. Compensa questo, compensa quell'altro. Lavoraggine secondo noi è molto molto importante. Quindi noi chiediamo a questa azienda di non far finta che i problemi non esistano, mettersi al tavolino col sindacato seriamente per calcolare una dotazione organica seria che metta in sicurezza i lavoratori ma soprattutto i pazienti. Perché a noi ci stanno a cuore i nostri pazienti. Dove manca un infermiere viene meno l'assistenza, dove manca un os viene meno l'assistenza. Ci sono degli studi, l'Ursind ha promosso insieme a Cergaz Bocconi uno studio che è l'RN Forecast, che dice che in un reparto di degenza media il rapporto infermiere-paziente è 1 a 8, 1 a 10. Tutte le volte che diminuiamo questo rapporto aumenta notevolmente la mortalità. Siamo messi da Arezzo. Siamo messi male, addirittura abbiamo notizie di 1 a 12, abbiamo notizie addirittura di un abbassamento di schemi di servizio. Già lo scorso agosto il sindacato aveva alzato la voce contro l'annunciato dimezzamento delle risorse assunte con un contratto interinale. Loro dicono che è stato preso perché doveva sostituire le ferie, ma in realtà se deve sostituire le ferie vuol dire che lì manca tutto il coefficiente di sostituzione della dotazione organica, quella reale. Abbiamo addirittura interinali che ormai vanno avanti da anni e anni, perché non c'è graduatoria in questo momento, non sanno dove prendere. Allora, se io non so dove prendere il personale, perché non c'è una graduatoria al tempo indeterminato, quantomeno manteniamo gli attuali standard, che per noi, lo ripetiamo, sono sempre insufficienti.